Ciao a tutti, questa settimana ho pensato di disegnare un soggetto che mi piace molto e infatti lo disegno spesso, due mele rosse e gialle è un ottimo soggetto tridimensionale per chi vuole imparare a disegnare mi sono divertito molto a disegnarlo e ora possiamo vedere insieme come è venuto ma prima di cominciare che ne dite di mettere un bel like? i vostri like mi rendono sempre molto felice e quindi via col like e via col disegno grazie a tutti 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 se anche tu vuoi imparare a disegnare come me, trovi i miei tutorial esclusivi sulla mia pagina Patreon, ecco il link, ciao e alla prossima Grazie a tutti.